Ma chi erano dopo tutto le ninfe? A questi esseri, dalla vita lunghissima, seppure non eterna, l'umanità deve molto. Attratti da loro più che dagli umani, gli dèi cominciarono a fare incursioni sulla terra, e prima degli dèi poi gli uomini che imitano gli dèi riconobbero che il corpo delle ninfe era il luogo stesso di una conoscenza terribile, perché al tempo stesso salvatrice funesta, la conoscenza attraverso la possessione. Una conoscenza che dà la chiaroveggenza, ma può anche consegnare chi la pratica a una peculiare follia. Il paradosso della ninfa è questo, possederla significa essere posseduti e dà una forza soverchiante.